Mercoledì 22 giugno 2022, benvenuti, bentornati. Nuovo appuntamento con Yetech, puntata un po' più discorsiva del solito, perché è una puntata che vuole in qualche modo fare una cosa a cui Apple tiene particolarmente, celebrare gli eventi e in qualche modo quindi oggi impareremo a conoscere un po' una nuova era di Apple che quest'oggi in qualche modo viene completata, perché oggi, due anni fa, esattamente il 22 giugno del 2020, succedeva una cosa abbastanza importante, quindi mettiamo la sigla e poi partiamo. Ci ricordiamo tutti quello che era il 2020, ci ricordiamo tutti quello che era il 22 giugno del 2020, quello che per la tecnologia in generale ha rappresentato quindi la WWDC di quell'anno, ma soprattutto poi anche la nuova era degli eventi, perché la WWDC di quell'anno fu il primo evento totalmente in remoto con una produzione anche, se vogliamo, cinematografica diversa. Apple, secondo me, ha voluto sfruttare in maniera ottimale anche il contesto per far succedere esattamente questa cosa. Quindi oggi è quel famosissimo 22 giugno del 2022, in cui, in un modo o nell'altro, si completa la prima era. In quell'occasione venne detto che il primo ciclo sarebbe durato due anni. In realtà, poi, non sappiamo benissimo se oggi è in qualche modo la fine del primo ciclo, o se i due anni in realtà scadranno il 10 novembre quando, in qualche modo, compiranno due anni i primi Mac con Apple Silicon. Però, in un modo o nell'altro, oggi è un po' una data emblematica, perché si può iniziare a capire come effettivamente una transizione del genere può essere sfruttata dalla Apple di oggi, un po' da questo settore tecnologico. E direi di partire con un po' quello che era il punto di partenza, quello che quel 22 giugno del 2020 è parso un po' come veramente un nuovo inizio. E poi, in qualche modo, lo è anche stato, perché, ricordiamoci, che in quell'occasione Apple presentò non solo, ovviamente, il primo sistema operativo che, in qualche modo, girasse su due piattaforme, o meglio, una riproposizione di un qualcosa. Ricominciamo a familiarizzare con Rosetta, Rosetta 2, per quanto riguarda, in qualche modo, i corsi e ricorsi storici che Apple, in qualche modo, tira fuori. Pensiamo semplicemente al MacBook Air, al Mac Mini, quindi dei prodotti iconici che l'azienda continua a ripresentare proprio per usare quei brand, quindi Rosetta 2 e, appunto, un sistema operativo che anche graficamente poi andava a replicare di pari passo quella che poi è stata la narrazione che il segmento dopo quell'audio che vi ho fatto sentire andava a completare. perché Tim Cook passava la palla a Johnny Serugi che, in qualche modo, andò a rappresentare la cronistoria di Apple Silicon con dieci anni di know-how. Sin dal primo iPad, da quel 27 gennaio del 2010, con l'introduzione dell'Apple A4, ovviamente poi l'iPhone 4, il mio primo smartphone, quindi sono anche, in qualche modo, affezionato. Tra l'altro, io quindi ho sempre avuto prodotti Apple che hanno fatto uso di Apple Silicon, non ho mai avuto un 3GS, un 3G o un iPhone Edge, però, da questo punto di vista, Apple presenta, quindi, un qualcosa di unito, un qualcosa di coerente. E poi, adesso, noi ci ritroviamo, a praticamente luglio 2022, a vedere quali sono i primi frutti di questa nuova era. Un'era che non è ancora andata a completarsi, perché, appunto, manca ancora il computer definitivo, però, in questi due anni, noi abbiamo imparato a conoscere un po' quali potranno essere le prossime mosse di Apple. E, prima di parlare di futuro, parliamo di presente, ma anche oramai di passato, perché con la WWDC di quest'anno noi abbiamo imparato a conoscere, sinceramente, quella che non definirei una seconda generazione, ma, comunque, un bel passo in avanti. Poi, oggi, magari anche per celebrare, in maniera, diciamo, sottointesa questo anniversario, è scaduto l'embargo di quelli che sono i primi Mac con processore Apple Silicon di seconda generazione. Quindi, ad esempio, trovate, io, per esempio, ho visto la recensione di Irene Ricci, che è l'unico dei grandi non giornali che ha pubblicato al momento in cui sto andando in diretta, quindi alle 17.08 del 22 giugno, la recensione, non c'è Brownlee, non c'è Justin, non c'è Dave 2D, cioè, io ho visto solamente lui, e quindi, in qualche modo, adesso abbiamo già un ulteriore step. Però, adesso, direi che, forse è arrivato il momento di andare a capire come questa prima transizione ha portato, secondo me, sostanzialmente dei benefici in Apple. E direi di partire da quel 10 novembre quando Apple presenta tre computer, tre computer che hanno cambiato la storia, perché presenta il MacBook Air con M1, presenta, ovviamente, il Mac Mini con M1 e il MacBook Pro non Pro con M1, quello che, ancora oggi, possiamo considerare il computer con la Touch Bar. Ecco, per differenziare, adesso, abbiamo un elemento distintivo che è la Touch Bar, perché poi abbiamo imparato a conoscere quelli che sono i veri MacBook Pro, quindi, diciamo che, alla fine, forse, l'elemento, anche per distinguere all'interno delle conversazioni, potrebbe essere la Touch Bar o il vecchio design, perché adesso capiremo anche dove Apple sta andando a parare. Quindi, dicevo, tre computer che portano a qualcosa di nuovo e, sostanzialmente, la prima cosa che tutti noi abbiamo imparato, oltre ad essere stupiti per la potenza di determinati prodotti, mi verrebbe da dire che è stata la rinascita del MacBook Air, perché, fino all'epoca, nonostante il redesign del 2018, fino all'epoca dell'introduzione di un MacBook Air con Apple Silicon, l'azienda, in qualche modo, non riusciva a creare un prodotto efficiente, in realtà, abbiamo, quasi, due anni fa, qualcosa di significativo. Abbiamo un prodotto che cambia totalmente le carte in tavola e, ancora oggi, al netto, se vogliamo, di quello che potrebbe essere un esempio accattivante, però, avere un computer spesso venduto sotto i 900 euro per, in realtà, 128 giga, però, o 256, onestamente, non lo so, però, comunque, un prodottino che credo sia 8 giga di RAM, 256 giga di SSD, però, un computer a un prezzo così conveniente, fanless, con le caratteristiche che ben tutti abbiamo imparato a conoscere in questo primo assaggio di Apple Silicon, cambia le cose, stessa cosa di casi per il Mac Mini, io mi ricordo all'epoca i video che vennero fuori per andare in qualche modo a raccontare la bontà di questi prodotti e tante persone che usano i computer in maniera intensiva, mi verrebbe per esempio da citare Luca Zorzi, di Apple, che, in qualche modo, cambiando il suo setup, usò e usa ancora un Mac Mini al posto del suo MacBook Pro del 2016 e, ancora oggi, durante gli episodi del podcast, ama sottolineare che il computer è sempre freddo nonostante sia perennemente in un cassetto e questa cosa ti fa capire come, in sostanza, un prodotto del genere deve rimanere importante per quella che potrebbe essere una prima fase perché poi arriviamo allo scorso anno quando Apple inizia veramente a farci capire cosa vuole essere Apple Silicon perché durante l'evento di primavera del 2021 noi vediamo i primi prodotti che iniziano a cambiare perché durante l'evento Apple presenta l'iMac con processore M1 e, da questo punto di vista, noi rendiamoci conto ancora oggi di come alla fine un processore del genere che porta soprattutto potenza ma anche consumi ridotti può fare in modo che 11 millimetri e 3 riescano in qualche modo a far non solamente un prodotto potente ma anche un ottimo prodotto di design che Apple in qualche modo vuol continuare a sperimentare anche da quel punto di vista e adesso dobbiamo ancora andare a vedere quelli che sono poi i passi successivi perché da un certo punto noi ci renderemo conto di come questi prodotti saranno i veri pionieri dell'informatica moderna ma prima di parlare di questo direi che è arrivato il momento di parlare di un'altra cosa importante in questi primi due anni di transizione ovvero l'inserimento di M1 in un tablet quando Apple presenta M1 nel primo iPad Pro in qualche modo noi ci rendiamo conto che forse l'azienda inizia a fare seriamente poi il risultato finale lo vediamo 15 mesi dopo lo vedremo 18 mesi dopo con la prima beta di iOS 16 che è uscita con delle funzioni esclusive solo per questo dispositivo ne abbiamo già parlato in maniera diffusa negli scorsi episodi ne ho parlato in maniera più completa nell'ultimo episodio di Unepad Guide di cui trovate il link nelle note dell'episodio però fa capire che un prodotto come Apple Silicon è in grado di cambiare le cose e quindi un prodotto del genere inserito in un contesto come il tablet poi ti può portare a far maturare un prodotto come in realtà poi gli altri non fanno e le polemiche si stanno facendo sentire però un prodotto del genere che riesce a gestire 8 applicazioni in 6 mm e 4 anzi addirittura in 5 mm e 9 perché l'11 pollici con M1 è spesso credo 5 mm e 9 però è qualcosa che ti fa taccare la mascella cioè è qualcosa di veramente importante e qua stiamo parlando di prodotti solo con processore M1 perché abbiamo visto la prima fase che va a concludersi solamente con a parte iPad Pro che però è un tablet con l'aggiornamento di tutti i computer con Apple Silicon di fascia consumer ma non solo la cosa interessante secondo me è andare a definire qualcosa in comune come ad esempio il fatto che tutti i computer consumer hanno un solo taglio di schermo e questa potrebbe essere in realtà una caratteristica che poi porterà Apple a far ridefinire dei concetti futuri che non abbiamo ancora visto quindi l'iMac che va a rimpiazzare il 21 e mezzo ma anche il 27 pollici potrebbe continuare a rimanere l'unico prodotto sul mercato con il chip entry level questo potrebbe essere una cosa interessante però poi ci rendiamo conto di come alla fine M1 non dico che sia uno scherzo ma quasi perché poi arriviamo a ottobre 2021 un prodotto come il MacBook Pro con chip silicon lo conoscevamo di già però Apple ha voluto far di più ha voluto secondo me strafare presentando un prodotto il MacBook Pro con dei nuovi processori M1 Pro e M1 Max conoscevamo il tutto come M1 X che però diciamo che ragazzi hanno iniziato a fare la differenza perché rendiamoci conto che un prodotto come il MacBook Pro che io ho qua davanti e ce l'ho nel modello più basilare possibile ha già delle caratteristiche che ti fanno capire come un prodotto Apple di fascia più alta ti porta ad avere esperienze d'uso diverso senza andare a sottolineare quelli che potrebbero essere determinati punti di vista perché in questo momento non voglio andare a fare un'analisi più completa di quanto in realtà poi serva alla fine di un discorso che vorrei tenere veramente più colloquiale possibile oggi è proprio una chiacchierata su questi primi due anni però quando andiamo a vedere questi prodotti che in realtà acquisiscono riacquisiscono mi verrebbe da dire delle caratteristiche da professionista ad esempio delle porte che non fossero la USB-C che Apple ha introdotto nel 2015 sul MacBook e che poi da quel portatile in poi hanno caratterizzato tutti i computer perché poi ricordiamoci il redesign del 2016 del MacBook Pro quello che per intenderci oggi è il MacBook Pro con la touchbar avevamo la versione più pompata con quattro porte Thunderbolt però non avevamo altri compromessi adesso in realtà abbiamo una distinzione netta che poi va in qualche modo a riprendere un nuovo concetto che abbiamo visto un paio di settimane fa oramai credo tre settimane fa però il MacBook Pro del 2021 porta qualcosa in più quindi porta una fascia di processori diversi che vanno a piazzarsi in macchine diverse che portano se vogliamo delle esperienze diverse uno schermo mini led la possibilità di avere appunto più porte esterne e la possibilità di avere delle workstation portatili e io non ho sentito nessuna persona lamentarsi del MacBook Pro con processore M1 Pro e M1 Max e qua noi pensavamo di vedere una cosa completa però mancava ancora un tassello alla completa transizione verso i processori M1 Pro e M1 Max ma non solo perché i Mac Pro i Mac di fascia professionale vanno in qualche modo ad arricchirsi di un nuovo brand non bastava il brand Pro non bastava il brand Air ma noi adesso impariamo a conoscere anche il brand Studio e quindi veniamo a qualche mese fa evento di primavera del 2022 dove Apple presenta appunto il Mac Studio con il processore più potente con il sistema ONAC più potente e addirittura due M1 Pro scusate due M1 Max che si fondono insieme fino a regalarci l'M1 Ultra quindi un prodotto che è potenza pura che va a sbriciolare le caratteristiche dei vecchi Mac Pro con processore Intel e che fanno in modo che un utente leggermente avanzato come Marques Brownlee nonostante ci fossero dei video dove in qualche modo sottolineava di aspettare il Mac Pro però Marques Brownlee almeno al momento ha sostituito il suo vecchio MacBook Pro scusate il suo vecchio Mac Pro Intel con un Mac Studio e anche lì essendo un prodotto di fascia professionale non consumer vediamo qualcosa in più vediamo più porte vediamo l'introduzione dello slot per l'Sd e D2 USB-C o Thunderbolt a seconda della configurazione nella parte frontale del prodotto e che quindi portano Apple anche non dico a sperimentare però a rendere sicuramente più completa una transizione che non è ancora finita perché nonostante una persona che fa di un prodotto del genere quindi quando Brownlee sceglie il Mac Studio è un po' un timbro nonostante appunto manchi qualcosa di importante come la macchina definitiva però in un modo o nell'altro noi ci rendiamo conto che può già essere una cosa di diverso e qua quindi direi di fare una sorta di punto finale almeno di questa prima fascia di prodotti Apple Silicon perché in realtà manca un tassello importante che è l'iPad Air con M1 quindi Apple che prende il processore dei primi Mac li introduce in una gamma più bassa di tablet punto basta mancava solamente un piccolo inciso noi ad oggi anzi noi a maggio 2021 22 abbiamo una prima esperienza completa di processori che si basano sul chip A14 sono praticamente degli A14X degli A14Z molto pompati che portano un'esperienza d'uso diverso portano qualcosa che noi conosciamo bene se usiamo quotidianamente un tablet se usiamo quotidianamente uno smartphone Apple degli ultimi anni ma così come la stessa esperienza che ci porta un prodotto come Apple Watch la cosa interessante è però quello che ci aspetta perché nonostante noi avessimo già in passato visto la bontà del prodotto diciamo che almeno io personalmente ma a quanto leggo non sono l'unico non ho avuto degli ottimi rapporti con tutta la gamma A14 lato iPhone ma anche lato iPad con questo M1 io ho visto dei pesanti cali della batteria e quindi ecco che Apple presenta il chip M2 presenta il chip M2 alla WWDC di quest'anno che si basa sulla 15 processore che ho su iPhone 13 Pro su iPhone 13 Mini e che non mi sta dando problemi sono due telefoni che uso praticamente in parallelo prodotto che ho utilizzato in maniera importante anche su iPhone SE di terza generazione e che non mi ha portato problemi e questa cosa è importante perché noi adesso impareremo a conoscere nelle prossime settimane magari c'è qualcuno di voi che venerdì avrà tra le mani un MacBook Pro M2 con la Touch Bar in attesa del MacBook Air però già adesso noi vediamo delle performance diverse vediamo soprattutto come durante l'annuncio di questo nuovo sistema no chip Apple abbia iniziato a sottolineare pesantemente quelli che sono i consumi e quindi in ottica futura io mi aspetto la visione un po' più completa di tutto il discorso legato se vogliamo anche al mondo del tablet perché Apple Silicon non è solo Mac ma è anche iPad per il momento perché in futuro vedremo un processore della linea M su iPhone io non credo però c'è da dire che il processore A15 come dicevo la scorsa settimana oramai lo abbiamo in quelli che sono tutti e quattro gli iPhone del 2022 in qualche modo quindi gli iPhone 13 normali e gli iPhone 13 Pro perché ok sono usciti a fine 2021 ma poi si sviluppano nel 2022 parlando di telefoni del 2022 lo abbiamo appunto nell'iPhone S di terza generazione lo abbiamo in iPad Mini di cui vi parlerò lunedì su un iPad Guy quindi andate a sentire il podcast perché è un prodotto che mi sta facendo oscillare tra amore e odio e ho tra l'altro bisogno di un vostro consiglio per cui lunedì alle 17 sentite l'episodio e poi ci sentiamo su Twitter nella giornata di martedì perché ho bisogno di un consiglio però appunto l'iPad Mini ha il processore a 15 i nuovi iPhone avranno il processore a 15 l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Max avranno lo stesso sistema chip dell'anno scorso quindi è un prodotto che è forte per Apple e il cuore di questo prodotto poi sarà anche il punto di partenza almeno dell'inizio dei processori Apple Silicon M2 quindi il nuovo MacBook Air avrà appunto un processore derivante dalla 15 il nuovo MacBook Pro con Touch Bar avrà un processore derivante dalla 15 il nuovo iMac il nuovo Mac Mini il nuovo iPad Pro avranno tutte varianti della 15 e non parlo di M2 Pro di M2 Max di M2 Ultra e di quello che potrebbe essere un M2 Extreme che dovesse in qualche modo poi fare debutto a fine 2022 sul MacBook Pro sul MacBook magari sul MacBook Studio anche lì non so perché ma magari una fascia a metà non so perché dovesse in qualche modo esistere ma ha introdotto un Mac Studio magari può introdurre un MacBook Studio oppure c'è ancora il discorso di iMac Pro c'è il discorso legato al Mac Pro e questi prodotti di fascia superiore li accantoniamo perché alcuni rumor dicono che l'azienda potrebbe in realtà prendere e fare di quei prodotti un qualcosa a parte quindi a partire dall'autunno noi potremmo vedere una suddivisione con questi prodotti che addirittura avranno un processo costruttivo diverso io onestamente dubito e il primo Sysmono Chip per Mac potrebbe essere l'M3 che spero arrivi a novembre del prossimo anno ottobre novembre del prossimo anno però Apple spinge tanto sulla 15 appunto noi vedremo addirittura il prodotto di punta di Apple l'iPhone anche quest'anno con il processore dello scorso anno e questo processore perché l'ha detto la stessa Apple a 5 nanometri con lo stesso processo costruttivo di M1 è appunto l'idea che c'è dietro M2 ma poi noi adesso ci rendiamo conto e appunto vorrei utilizzare questo come chiusa di questo podcast di quella che in realtà è già una nuova era che si apre perché nonostante Apple abbia già rinnovato alcuni dei design la cosa interessante di questa prima fase M2 è il nuovo MacBook Air di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana ma ti fa capire anche il legame che ci può essere tra la fascia pro e la fascia non pro con non solo appunto le linee che vanno a stuzzicarsi cioè sostanzialmente il MacBook Air è il MacBook Pro più sottile ma ad esempio un processore come M1 Pro nella nuova configurazione poi arriva a far capire un po' che si c'è miglioria però tutto è legato cioè il MacBook Pro con M1 Pro e M2 nonostante siano in realtà su due mondi diversi però alla fine si riducono ad un minimo comune denominatore anche da un punto di vista visuale il MacBook Pro è il nuovo MacBook Air l'iPad Pro è il nuovo iPad Air quindi in qualche modo Apple vuol far pensare o almeno questo io ho capito di come ci sia la volontà di legare tutto il design di iPad Pro che poi viene ripreso dal nuovo iMac un prodotto come lo stesso MacBook Pro è derivante dall'iPad che poi è derivante dall'iPhone 4 che poi è il primo prodotto con Apple Silicon quindi in un modo o nell'altro la cosa interessante e lo stiamo vedendo anche nei colori il fatto che Apple introduca in mezzanotte il Galassia sul MacBook Air ti fa capire come tutto adesso è ridotto ad un minimo comun denominatore dove abbiamo alcuni prodotti specifici tipo l'iPhone Pro con il grafite che poi è lo Space Gray però per il resto noi abbiamo tutti i colori uguali vedremo e qua è importante lo dicevo anche settimana scorsa capire se il nuovo iPad Pro il nuovo MacBook Pro magari anche il nuovo iPhone Pro avranno il Galassia e il Mezzanotte perché da questo punto di vista noi capiremo anche proprio da un punto di vista visuale la continuità tra i prodotti la cosa bella è vedere una Apple che ti butta fuori un sistema una chip come la 14 a settembre proprio nell'iPad Air ripreso a ottobre con appunto i nuovi iPhone nuovi soprattutto da un punto di vista di design poi arriva il 10 novembre con l'M1 che va a riprendere il concetto della 14 e lo spalma fino alla praticamente primavera del 2022 e adesso noi stiamo vivendo una seconda generazione appena iniziata che potrebbe regalarci tante sorprese soprattutto spero da un punto di vista di batteria più che di performance perché mi scoccerebbe avere ancora un iPad Pro specie se sarò tra virgolette costretto a comprare un nuovo iPad da 13 pollici però in un modo o nell'altro anche se potessi scegliere l'11 mi resta un po' diciamo non mi va a genio la stessa durata della batteria che ho su iPad Mini e su iPad Pro e quindi in un modo o nell'altro riesco a capire un po' un discorso più ampio un discorso più ampio che Apple può fare soprattutto anche da un punto di vista del software perché chiudiamo il podcast con argomenti di cui abbiamo già ribattuto però è chiaro che Apple ha scelto gli iPad Pro e l'iPad Air con M1 per far sì che quei prodotti sono i prodotti che vanno a legarsi anche da un punto di vista software proprio al mondo dei Mac con Stage Manager con quella che è una continuità anche proprio con uno strumento caratteristico del Mac come il supporto al monitor esterno e da questo punto di vista credo che andare a sottolineare l'informazione di scegliere un prodotto in continuità proprio da un punto di vista prettamente funzionale che si lega anche sotto lato processore per me è un aspetto veramente importante che non vedo l'ora poi di capire dove andrà poi ad evolversi perché oggi celebriamo i due anni però questa è un'era che si sta aprendo è un'era che probabilmente porterà ad un'unificazione della piattaforma anche software quindi un unico grosso sistema operativo tanti prodotti stanno dirottando verso i cipem quest'anno ad esempio abbiamo visto l'iPad Air vedremo se l'iPad mini avrà una sua settima generazione vedremo quando perché in questo caso non è un se anche il tablet di fascia bassa avrà il processore Apple Silicon per Mac quindi la fascia M perché quando nel 2023 nel 2024 noi avremo un prodotto a 389 euro magari con 128 giga di taglio base solo wifi un display ancora più cicciotto quindi c'è delle cornici più cicciotte quindi magari un display da 10 pollici e mezzo con il touch ID nel pulsante home o come taglio magari nuovo quindi il touch ID sul pulsante power quindi l'M1 ha 400 euro quello è un prodotto da straconsigliare e magari poi accompagnarlo con 400 euro di tastiera però abbiamo visto i brevetti quindi la nuova Magic Keyboard potrebbe avere la stessa la stessa fascia di prezzo dell'attuale e magari poi la vecchia Magic Keyboard potrebbe scendere di prezzo questi comunque sono discorsi da non fare in quest'ambito però capiamo come ad esempio un prodotto a 400 euro con stage manager con il supporto ai monitor esterni possa in qualche modo celebrare la nuova era dell'informatica moderna e tutto passa tramite Apple Silicon che oggi compie due anni quindi più o meno questa è un po' la prima fase noi aspettiamo il proseguio della seconda che abbiamo appena iniziato a conoscere ma aspettando i nuovi prodotti io vi parlo di un piccolo grande prodotto che sto amando ma sto anche odiando lunedì alle 17 con un nuovo episodio di unipad guy oppure per parlare di altre cose che riguardano la tecnologia nella prima puntata di luglio che figata sta per arrivare settembre quindi stiamo per vedere i nuovi iphone ma noi ci sentiamo prima di quella data la settimana prossima alle 17 con un nuovo episodio di E-Tech questo episodio ha sido producato con BotCleaner di E-Tech discover more at BotCleaner dot com di E-Tech di E-Tech di E-Tech di E-Tech di E-Tech di E-Tech